Armato di bandiera tricolore, il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, è tornato al ferro di cavallo nel quartiere pescaresi di Rancitelli. Una manifestazione organizzata con le associazioni antimafia e il movimento Agende Rosse per esprimere solidarietà alla donna a cui hanno bruciato l'automobile nel cuore del quartiere. Per la prima volta tanti cittadini ci mettono la faccia, vengono qui a manifestare nel ferro di cavallo contro i criminali, contro i delinquenti. Qui è stato teatro di sparatorie, di omicidi, di spazio di droga, di detensioni di armi, quindi tutto si è consumato in questa piazza dove stiamo noi. Hanno bruciato la macchina di una donna coraggio qualche giorno fa ed è importante che i cittadini ci mettano la faccia per la prima volta nella storia e dicano sotto casa dei delinquenti, dei criminali, che noi ci vogliamo riappropriare di questo pezzo di terra che ci appartiene, della nostra città. Non abbiamo paura, a testa alta e con la schiena dritta combatteremo sempre. Abbiamo organizzato questa iniziativa di raccolta di un'offerta per la signora a cui hanno bruciato la macchina, messo a disposizione il suo IBAN, il suo conto corrente. Chi vuole può fare un'offerta perché lei non ha più nulla. Ha perso la macchina, ci ha messo la faccia, a schiena dritta, con la testa alta e adesso, quindi cittadini, di buona volontà, noi chiediamo anche di dare un contributo. Il consigliere 5 Stelle non ha risparmiato attacchi alla giunta regionale. Sono stati fatti degli sgomberi, purtroppo alcuni sono già rientrati. Per cinque volte sono stati sgomberati dalle case e sono rientrati all'interno delle case. E questo è vergognoso. E qualche giorno fa in Consiglio regionale, una notizia, hanno approvato l'ennesima sanatoria per gli occupanti abusivi. Quindi da una parte dicono di voler cacciare e sgomberare gli occupanti abusivi, da un'altra parte sanano le occupazioni abusive. È una cosa vergognosa. Queste cose dobbiamo dirle. Per Pettinari la ricetta è sempre la stessa. Sfratti e presidi fissi delle forze dell'ordine. Presidio fisso di polizia, sfratti, veri sfratti, contestuali, assegnazione a chi ne ha diritto e annullare immediatamente, azzerare la vergognosa sanatoria degli occupanti abusivi che questa amministrazione di centro-destra ha fatto in regione.